E' durata tre ore l'audizione di OPEC Ustra di fronte all'Europarlamento, il candidato a commissario per l'ambiente ha suscitato più di una perplessità appartenente alla famiglia dei popolari e lavorato per due anni alla Shell, ma neanche la sua carriera nella società di consulenza McKenzie piace. Nel corso dell'audizione ha mostrato una forte volontà di difendere il Green Deal europeo. Presidente von der Leyen e former Executive Vice Presidente Timmermans laid the foundations for Europe's green transformation. And I want to assure you that continuity is in place on the entire Green Deal. In my own portfolio, I aim to swiftly conclude all pending negotiations. But I will not be a caretaker. Dice che si porrà come interlocutore equidistante per industrie e agricoltori. Ustra dovrebbe sostituire il connazionale Franz Timmermans, che si è ritirato da Bruxelles per partecipare alle politiche olandesi di questo autunno. I dubbi dei verdi dell'Europarlamento. Will the EPP continue with their anti-Green Deal politics, voting against all of the climate laws, or will we have an ambitious climate policy? And he needs to be still more convincing. He had nice words, but not concrete. So I will try to pin him down. He needs to convince the Environment Committee, and that's why he does commitments, which I don't always like. Il voto della Commissione Ambiente sarà conosciuto nelle prossime ore.